Buonasera dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma ci sono code a tratti per traffico intenso tra Badia e Aglio e Traaglio e Incisa Leggello. In A11, in direzione Firenze, rallentamenti tra Prato Est e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In direzione Pisa, rallentamenti per traffico intenso tra l'allacciamento con la 1 e Prato Oeste per incidente tra Prato Ovest e Pistoia. Sulla FIPILI, in direzione Livorno, per traffico intenso, code a tratti tra Firenze e Scandicci e la Strassigna e rallentamenti tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina. Per la viabilità cittadina, a Firenze si segnalano rallentamenti sui viali a causa della chiusura di via nazionale nel tratto compreso fra via Guelfa e via Chiara per un intervento urgente di Publiacqua a seguito della rottura di una tubazione. E anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio! Grazie a tutti!